Cultura, da venerdì primo di settembre partono le iscrizioni ai corsi dell'Associazione Futura di Lavagna. Previsti cinque nuovi corsi, incontri su diversi temi, iniziative artistico-culturali e tante uscite a Genova, Albenga, Savona, Fontanellato e in Sardegna. Le interviste di presentazione. Quali sono i contenuti, se vogliamo, del nuovo anno di corsi? Sono obiettivi e contenuti culturali, ma ci sono anche altri obiettivi a cui teniamo. In effetti parte tutto l'anno culturale con tante altre iniziative, quindi corsi da una parte sicuramente, ma anche viaggi, visite e soprattutto tanti incontri sulla difesa dei diritti. La vicinanza, la solidarietà, l'apertura agli altri, l'inclusione sono per noi obiettivi fondamentali. Quindi guardare verso il bene comune a 360 gradi. Quali sono le novità di quest'anno? Abbiamo cinque nuovi corsi, teatro, psicologia, restyling, fotografia e Genova e le sue scoperte artistiche. Naturalmente sono corsi, come anche altri, alcuni specificamente culturali, altri che uniscono la dimensione della cultura, anche la dimensione della manualità, della gestualità, tipo teatro, danza, eccetera. Qual è una delle gite più interessanti che avete messo a calendario? A ottobre, per esempio, andremo a visitare la Fondazione Magnani Rocca, che si trova in una bellissima villa a Traversetolo in provincia di Parma. Vi posso solo dire che sono presenti in questa collezione 100 tele di Giorgio Morandi, famoso per le bottiglie, come conoscete. Come fare per iscriversi allora? Per iscriversi è molto facile. Bisogna presentarsi tutti i venerdì di settembre e di ottobre, presso la parrocchia Maria Madre, dalle 10 alle 12. Se non è così comodo, contattateci sul nostro sito, dove ci sono anche i nostri indirizzi, vi manderemo l'Iban e i moduli, potrete anche pagare attraverso bonifico bancario. A chi verrà e non ha voglia di tirar fuori i soldini, c'è anche carte di credito e bancomat. Grazie.